Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video dopo una settimana di vacanze sono finalmente tornato allora ragazzi, è stato un periodo abbastanza difficile perchè appunto non pubblicare i video è stato abbastanza un po' brutta per me perchè appunto volevo caricare molti video comunque ragazzi vi voglio dire che i video che in questi giorni vedrete sono pre-registrati appunto dalle vacanze quindi appunto io non è che ho perso tempo a non registrare niente ho registrato un bel po' di video quindi ragazzi io spero che comunque questo grandissimo ritorno vi possa andare a piacere sono molto contento di essere tornato finalmente e quindi spero che comunque questo nuovo video dopo una settimana nel mio canale vi fosse piacere raggiungiamo come sempre 10 like per un prossimo episodio e ciao a tutti